Sabato 6 ottobre arriva la Biancanotte di Ancona. Tanto shopping, tanta musica e tanto divertimento su 5 piazze per tutta la notte. Radio Arancia e Radio Conero vi invitano in Piazza Roma e Piazza Pertini per la prima notte bianca in diretta a Radio TV e Web. La Biancanotte. In Piazza Roma lo staff di Radio Arancia presenta la selezione locale del Festival di Castrocaro, unica via di accesso per il Festival di Sanremo. Ospite d'onore l'Igea. In Piazza Pertini le esibizioni funamboliche del Freestyle Motocross, della Super Motard e dell'Auto Drifting. La Biancanotte di Ancona. Mai come ora, mai un così grande appuntamento multimediale. La Biancanotte di Ancona. Sabato 6 ottobre. Musica, shopping, spettacolo e prividi per tutta la notte.